Dimmi questo? Io posso chiedere qualunque cosa? Sì Ma funziona veramente? E puoi rifiutarti di esaudire un desiderio? No No ti rifiuti o no è la risposta? No è la risposta E' questo quello che fa Ruba il tempo alle persone, ruba la vita Perché voi non riuscite più nemmeno a immaginare la grandezza caro lei Ve ne state lì con le mani in tasca a guardare per terra Avete paura? Di cosa avete paura si può sapere? Altri cinque anni Ma sono in fretta eh No 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 No